Villa Verla assalto nella notte al Bancomat della filiale della banca Alto Vicentino in via Roma 34. I ladri, utilizzando una sostanza esplosiva, hanno fatto deflagrare lo sportello Bancomat asportando il denaro, circa 18.000 euro, per poi fuggire a bordo di una vettura Alfa Romeo di colore nero. Ingenti i danni provocati alla struttura sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo operativo di Tiene. Piovene e Rocchette. Sulla testa pendeva dal 2017 un provvedimento di espulsione emesso dalla prefettura di Roma. Questa volta un trentenne di origine albanese non è potuto sfuggire all'accompagnamento alla frontiera. L'albanese è stato notato dai carabinieri durante un controllo in un locale di Piovene mentre cercava di allontanarsi furtivamente. Condotto in caserma, i militari sono risaliti al decreto di espulsione, da qui il successivo provvedimento con l'accompagnamento alla frontiera aerea di Verona. Montecchio Maggiore. Positivo all'alcol test alle 9 del mattino. 59enne a bordo di una Ford Fiesta all'incrocio tra Viale Trieste e Via Pozzana e lungo la strada regionale 11 si schianta con una Toyota Yaris, alla cui guida via un 55enne con la consorte. Il 59enne sottoposto all'alcol test risultava di prima mattina positivo con un tasso d'alcol nel sangue di 0,8 grammi per litro quando il limite è 0,5. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica e chi dei due uomini non abbia rispettato il rosso del semaforo.